La notizia, Michelle Hunziker fuori? Il suo video smentita. Michelle Hunziker non condurrà più Striscia? Il video ironico sui social. Michelle Hunziker non sederà più dietro il balcone di Striscia la notizia? La verità è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato qualche minuto fa un video che come sempre vi abbiamo allegato in fondo all'articolo. Come noterete, il video è palesemente ironico, ma Michelle ha voluto in questo modo smentire ogni cosa, dichiarando che è soltanto una bufala inventata dai giornalisti la notizia che affermava che Antonio Ricci non la voleva più al timone del tg satirico di Canale 5. Precisamente, la bionda conduttrice si è mostrata in lacrime, finte, e con i fazzoletti da naso in mano, e fingendo un pianto disperato ha affermato che era tutto vero, era veramente triste. La Hunziker ha precisato di essere giù di morale non perché non condurrà a più Striscia, ma perché i giornalisti hanno scritto un sacco di cag-te, e tutto ciò che è stato affermato fino ad ora dalle riviste di gossip è soltanto una bufala. Striscia la notizia, Michelle Hunziker smentisce con un video su Instagram. Negli ultimi tempi molti giornali avevano sottolineato che Michelle Hunziker era distrutta dal dolore e che in molte foto il suo solito sorriso era stato sostituito da un'espressione che svelava soltanto tristezza, il motivo sarebbe stato il fatto che non avrebbe mai più condotto Striscia. Michelle ha quindi ripreso queste dicerie dichiarando ironicamente che era vero che era triste, e ha pregato i suoi fan di non credere ad una simile bufala. Alla fine del video, la Hunziker si è alzata e tra una lacrima finta e l'altra ha promesso ai suoi followers di riprendersi presto. Insomma, sembrerebbe proprio che ancora una volta i giornali siano giunti ad una conclusione sbagliata e forse troppo affrettata, la conduttrice svizzera non dirà addio al balcone di Striscia la notizia e a confermarlo è stato il video che Michelle ha voluto girare e postare sul suo Instagram. Attualmente, la moglie di Tommaso Trussardi si trova in Germania per trascorrere un po' di tempo in relax in solitudine, proprio ieri infatti la Hunziker ha mostrato ai suoi fan le spiagge fresche del nord, con i loro tipici rettini e le onde mosse dal vento. E ancora incerto il suo futuro lavorativo, per ora i due conduttori del TG satirico sono Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, ma come ben sappiamo il programma ha avuto sempre un certo ricambio repentino di conduttori e chissà che non rivedremo di nuovo la bionda conduttrice dietro il balcone blu di Striscia, magari anche nella prossima stagione televisiva. Instagram. Instagram.com barra pi barra bip sottolineatura che i36c barra punto interrogativo hl uguale i teta can buy uguale terea lunzigram.